venga stemperato cerchio ifior attraverso tullia e gian moti uomo così tormentato lascia che il tormento della tua mente parte materiale del tuo corpo materiale ma strumento del tuo corpo spirituale venga stemperato dal tuo sentire perché solo se riuscirai in questo diventerai finalmente qualcosa di più di un nome un'etichetta un groviglio di contrasti tormentosi